Come si usa al meglio il digitale per garantire che possa svolgere al meglio il suo ruolo di grande abilitatore? Il concetto fondamentale è proprio quello di abilitatore. Non bisogna farsi prendere dall'entusiasmo di utilizzare uno strumento digitale soltanto perché è l'ultimo strumento di moda per poi scoprire che non è ben chiaro che cosa se ne possa fare. Per noi è importante coniugare il lean perché riteniamo che questo sia un modo ottimale di organizzare l'azienda e quindi ottimizzare prima i processi, evitare quella che viene chiamata la digitalizzazione degli sprechi e questo presumibilmente o noi generiamo attraverso un processo sostanzialmente in tre fasi che consiste prima nel capire i processi di business e le loro necessità e l'attuale infrastruttura all'interno dell'azienda perché spesso le strutture ST che sono all'interno dell'azienda non sono molto avanzate quindi bisogna capire bene che supporto possono realmente dare. Una volta chiarita la situazione sulla base degli obiettivi strategici capire su quali processi lavorare e come digitalizzarli e poi qui arriviamo al nocciolo, riuscire ad avere un processo iterativo perché se non bisogna digitalizzare gli sprechi, quindi metto lo strumento informatico o digitale perché è bello ma non mi aiuta veramente, non devo nemmeno correre il rischio opposto che prima ottimizzo il processo senza aver ben chiaro qual è l'abilitatore e il facilitatore. Io faccio sempre l'esempio un po' scherzoso di quello che cerca un cavallo veloce perché nessuno gli ha detto che esiste l'email e quindi non c'è bisogno di cercare questi strumenti. Quindi ci vuole qualcuno mettere assieme queste due visioni per tirare fuori la soluzione che aiuti effettivamente il business aziendale.